Ciao, sono Francesco Cantisani, International Sales Director di SIP&T. Siamo un'azienda del sud Italia, molto specializzata nella perforazione verticale. Come potete vedere dalle immagini, realizziamo utensili di grande diametro, compatibili con tutte le trivelle che potete vedere qui al Geofluid. L'azienda ha 30 anni di esperienza nel settore ed è focalizzata sul mercato estero. Il nostro turnover è del 90% dedicato al mercato estero e stiamo cercando di implementare, di aumentare il nostro turnover nei nuovi mercati. Fondamentalmente il nostro prodotto è recepito molto bene nei paesi della ex Unione Sovietica. Ovviamente per lo storico abbiamo tutta l'Europa e ci stiamo concentrando nel sud-est asiato, per combattere un po' il fenomeno cinese e soprattutto negli Stati Uniti d'America e il Canada. Tutto ciò che voi vedete alle mie spalle rappresenta la gamma dei prodotti SIP&T che voi potete sicuramente trovare sul sito www.sipdrill.com.it. Nel caso voi vogliate delle maggiori informazioni tecnico-commerciale, il nostro staff del reparto vendite estero-Italia è a vostra disposizione. Buongiorno, sono Franco Montori. Il capo. Lui è la nostra punta di diamante e che fornisce a noi delle news per spingerci ancora di più il nostro dipartimento di ricerca e sviluppo, nonché la produzione, a innovare sempre di più e a cercare di soddisfare tutta la clientela. Wow, grande team. Grazie a tutti.